Non tutti parlano la stessa lingua, alcuni si scambiano sguardi ed accennano un sorriso come per dire felice di conoscerti. Una piccola delegazione ha scelto di indossare una maglia per spiegare più facilmente la propria provenienza. Hanno colori di capelli diversi, indossano scarpe differenti eppure sono molto simili. Originariamente sono tutti di Molfetta. Siedono nella sala consigliare di Palazzo Giovene per celebrare il Molfetta Day, manifestazione in favore dei concittadini residenti all'estero. L'idea nasce proprio da loro, dall'associazione Molfettesi nel mondo. 70 anni fa i primi Molfettesi che emigrarono e quindi raccoglievano i propri bagagli, questi varigioni enormi, emigravano in altre grandi nazioni e quindi iniziavano lì a lavorare. Quando alcuni sono ritornati hanno deciso di mettere su un'associazione appunto per non dimenticare tutti i sacrifici che avevano fatto. Sono arrivati in Puglia per rivedere la città di origine, per visitarla, vedere quanto e come è cambiata, riscoprire i colori e i profumi della terra da dove sono partiti i loro genitori. Ognuno con la propria storia. Ho vissuto 40 anni in Venezuela, dopodiché per la situazione economica, un po' per la politica, per la nostalgia abbiamo deciso mia madre e io di rientrare a Molfetta. I genitori di concita in Venezuela per cercare fortuna, Giacomo in Australia per inseguire la donna che sarebbe diventata la sua compagna di vita, sua moglie. Lei è partita per l'Australia a 17 anni con la famiglia, ho dovuto andare in Australia e dopo 39 giorni mi sono sposato. Continuano a venire qui a festeggiare non soltanto la nostra Madonna dei Martiri ma a ricordare tutto ciò che i loro genitori facevano in passato.